Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Game Play Ita. Questo è il tutorial 3 di Mombazoo, quello che ci porterà a lasciare quello che si definisce il mid game, la parte di gioco in cui noi capiamo le meccaniche, capiamo un pochino quello che è il nostro scopo, quali sono i nostri metodi per fare soldi e passiamo al late game. Praticamente, come vi avevo detto nello scorso tutorial, avevo mandato la comandata per il collegamento elettrico e l'ho ricevuto. Ora, avendo consegnato per l'ennesima settimana succo sciroppo d'acero, mi hanno pagato la domenica, quindi ieri, 15800, che è un ottimo gruzzoletto per arrivare allo step finale. Ora, non dipendiamo più dal generatore a carburante, a benzina, quindi il generatore rimane spento perché siamo connessi alla rete, l'unica cosa che dovremmo fare ogni due settimane circa è venire qui alla posta e vedere se c'è posta per noi per pagare la bolletta ed evitare che ci stacchino alla corrente, che è una scorciatura, perché comunque pagando dopo aver mancato un pagamento ci lascerà senza corrente per almeno un paio di giorni. Quindi, quello che faremo ora è appunto, vabbè, dovremmo ricordarci di pagare le bollette, ma me l'hanno appena collegata, mi pare venerdì o giovedì della settimana scorsa, pochi giorni dopo quando vi avevo fatto l'altro tutorial. Cosa stiamo andando a fare adesso? Andiamo a comprare l'ultima componente che manca per completare la produzione massiva di sciroppo d'aceno. Allora, io avevo già lasciato qua purtroppo, non sono riuscito a consegnare questi venerdì e li ho lasciati qua in modo che li consegno adesso, perché il negozio apre il lunedì, dal lunedì al venerdì fino alle 8 alle 16. E io avevo consegnato le 16.40 pensando chiudesse alle 17, quindi non sono riuscito. Quindi aspettiamo ancora i 4 minuti che passano in una decina di secondi e poi consegniamo. Ovviamente quando arrivate alle 8 non si abilita subito, ma bisogna diciamo far finta, far credere al gioco che stiamo facendo altro, non stiamo guardando e poi compare. Ok, iniziamo a consegnare 200, 200, 200. Paghiamo tutto quello che dobbiamo pagare, non abbiamo barili da consegnare perché questo è un po' una perdita perché non ne abbiamo. Adesso magari ne compro uno, così per averne di più. Allora, buongiorno, io devo comprare assolutamente un barile, uno al giorno, ne potete comprare. E poi prendo anche questi perché mi servono perché sto espandendo il tutto. E poi l'ultimo mega acquisto che dovremo fare. Abbiamo 30.000 dollari ora, che è un'ottima cifra. Dobbiamo comprare l'ultimo. Allora, qui possiamo comprarlo per impacchettarci il nostro sciopo d'acero nei barattoli e consumarlo noi a casa e quindi non doverlo più comprare, ma in realtà io lo bevo mentre lo produco, come ho già detto. Questo, 17.999. Lo compro, che è il riscaldatore elettrico. Il tecnico in un paio di minuti lo installerà. Lo sta già installando in realtà in casa nostra, appena arriveremo là lo troveremo. Rimaniamo con 12.190. Cosa fare con questi soldi? Potrei comprarmi la seconda cisterna in modo da ottimizzare la produzione. Non lo so, al momento me la compro. Perfetto. Ora abbiamo solo 2.000 dollari, ma inizia veramente un nuovo obiettivo. Quello di comprare tutto quello che il resto del gioco ci ha messo lì in bella vista fin dall'inizio, ma non potevamo prendere. Cioè, tutto quello che riguarda la seconda casa che possiamo acquistare. Le parti, soprattutto, della macchina per poterla portare alle gare, che è il late, late game. Quindi ora torniamo a casa. Magari vi salto il solito percorso e vi faccio vedere come funziona la nuova catena di produzione. Allora, ricapitolando quanto abbiamo fatto negli scorsi tutorial. Vi ho fatto vedere come nell'ultimo, vabbè, come si coltiva, come funziona la produzione di aceri, come funziona la produzione di sciropo d'accia, io intendo, come si collegano gli alberi, come si estrae la linfa, quelle che sono le location base e poi magari ve ne farò uno sull'auto o ci faremo una live. Ovviamente questi tutorial sono estremamente di nicchia, quindi non penso ce ne saranno moltissimi altri, perché non se li vede nessuno, solo grandi appassionati come me di giochi di questo tipo. Allora, vedete, il generatore non funziona più perché è spento. Siamo connessi alla rete elettrica con il contatore che conta, appunto, i kilowatt che consumiamo. L'energia adesso c'è sempre, quindi possiamo accendere il computer come vogliamo. E quello che andiamo a fare, adesso sto ampliando anche la cosa, perché bisogna portare i pacchi, dieci pacchi di questo, quindi devo farne cento di giant pack, per poter avere accesso al bunker. Ovviamente quando arriverò a questo obiettivo probabilmente saranno uscite altre patch, avranno aggiunto nuove cose. Io sono veramente entusiasta di averlo spolpato perché sicuramente dopo che avrò magari raggiunto l'auto da corsa pronta per le gare, aspetterò nuove patch. Ovviamente siamo solo la 0.291, quindi c'è ancora molto da attendere. Comunque, vedete, adesso ci sono due serbatoi che si stanno riempiendo, quindi abbiamo quasi 19.000 litri rispetto ai 9.600 di prima. non ho barili al momento, non ne ho qualcuno, però vedete qua ho il questo che praticamente va e produce liquido costantemente, senza bisogno di mettere la legna. Quindi io la legna l'avevo consumata totalmente, quindi la legna può diventare, può tornare ad essere una nostra fonte di reddito vendendola a Jack, nostro fratello, se vogliamo far due soldi. Non tantissimi rispetto a quanti se ne fanno con lo sciroppo d'acero, però magari sto pensando, elimino questi alberi, li taglio, risposto questo magari in giro per il campo o addirittura nuovamente a casa perché qua non ce n'è davvero più bisogno e poi continuerò con questo, ogni tanto a ripassare dagli alberi che ho già piantato e che sono cresciuti, sono diventati alberi anziani, tagliare i rametti per poter piantare ed estendere ulteriormente, vedete come è successo in questo caso, estendere ulteriormente il numero di aceri da cui possiamo mestrare la linfa. Ovviamente adesso non ricordo se ve l'ho fatto vedere ma ve lo farò vedere di nuovo, io prendo uno, premo E e lo posiziono e così via, e così tanti stanno crescendo e vedete tutti questi alberi qui sono pronti, sono pronti per il collegamento, collegamento che farò immediatamente, vi faccio vedere come, prendendo, ve lo faccio rivedere così espandiamo nuovamente la mia piantagione, allora praticamente l'ultimo albero connesso è, devo trovarlo, dovrebbe essere questo qui, quindi io adesso prendo questo, inizio, lo piazzo, lo piazzo anche qui, questi li ho piantati diversi giorni fa, adesso finalmente sono pronti, 1, 2, 3, ne collego 3, niente di che, insomma. Poi questi alberi qui creerò una zona, qui intendo, vedete davanti ho ampliato tantissimo, renderò poi una zona solo per il taglio legna, così almeno non... Poi prendiamo lo scarico, quindi il laterale, lo colleghiamo all'ingresso, lo scarico all'ingresso, lo scarico all'ingresso e ne abbiamo collegati altri tre alla pianta gialla. Lo lascio magari qui, così almeno sarà più semplice poi. Intanto, di là, cosa succede? Stiamo iniziando a produrre, come se non ci fosse un domani, liquido, qua possiamo bere lo sciroppo al volo, così non consumiamo bottiglie che abbiamo comprato, e qua stiamo producendo sciroppo d'acero, come se non ci fosse un domani, il bello che poi continua anche la notte, quindi possiamo già iniziare a riempirlo. Per riempirlo lo mettete sotto e aprite il rubinetto. Quindi qui abbiamo ufficialmente raggiunto quello che io definirei il late game, perché ormai non serve più abbattare alberi, preparare, stare qui, alimentare. Una volta sono rimasto qui talmente tanto che mi è salita l'ansia e poi sono morto. E l'ansia la si alza solo stando fermi, quindi poi dovete fumare i Wii di joint. Quindi infatti in alto a sinistra, sotto i soldi, vedete che ne ho nove, perché ho perso un pacchetto, perché sennò rischiavo di morire una seconda volta. Se morite vi ritrovate semplicemente a casa. Ora, la produzione qui avviene in modo automatico. Ovviamente dovete ricordarvi ogni tanto di passare e riempire i barili, perché sennò una volta che questo è pieno non produce più. È tutto fermo. Bene, questo è l'inizio, l'introduzione del late game, perché adesso finalmente potremo andare a spendere i soldi per rimodernare la nostra auto da corsa. Soprattutto adesso ho già lì pronto il cambio manuale. Devo prendermi il collettore di scarico, lo scarico l'ho già preso, magari il turbo, il nostro, insomma, mettergli diverse cose e prepararla poi per le corse notturne. Devo ancora trovare il tizio qui, vendere le auto a radio, che ho ancora in auto e che mi saltano fuori costantemente. Ogni volta che sbando lascio le portiere aperte, quando siamo in pendenza e rotolano fuori. Quindi, le bollette, se le domande che vi state facendo riguardano quanto si paga di corrente, se conviene, io ho visto che gente online ha pagato 150-200 come prezzo massimo, quindi il costo dell'energia non è altissimo, almeno qui vorrei ben vedere. Allora, intanto io inizio e mi metto fuori, inizio, posiziono sotto e vedete che inizia a versare. E niente, la produzione ora comincia in modo del tutto automatico. Io posso iniziare a spendere, come se non ci fossero domani, per componenti per l'auto. Qui si conclude il terzo tutorial su Mombazoo. Abbiamo parlato, appunto, di come iniziare, come fare i primi soldi, quindi la legna, iniziando poi a costruire, sempre con la legna, il Sugar Shack, che è quello lì, e iniziare a utilizzarlo, iniziare a collegare gli aceri. Il conto delle ore del gioco, al momento, per quanto mi riguarda, è arrivato praticamente quasi a 40 ore. Calcolando che il gioco ne costa molti meno di 40, diciamo che ne vale la pena. Io qua ho ancora un gran casino perché devo cambiare tutto. Il motore è qui, pronto per essere sostituito con quello da 5.000 che vendono al Caligas Shop, che è in mappa dove c'è 10 su 10 lì nell'isoletta centrale. Dove c'è la freccia in alto con scritto Continent, dovete procedere e poi girare a destra per arrivare sul continente che al momento è ancora tutto vuoto, verrà aggiunto con le prossime patch, ma lì trovate il barn dove dovete vendere i pacchetti d'erba e accedere poi alla possibilità di acquistare un bunker, che è un bunker che verrà costruito qui, sotto terra, enorme, per la coltivazione. Un altro bunker lo troverete anche dove c'è scritto, dove c'è quel cerchio grande in alto nell'isola tutta a destra, in alto a sinistra di quell'isola, dove c'è scritto in alto, lì c'è un bunker un po' più piccolino. Qua invece vi farete un bunker con l'irrigazione automatica, sarà bellissimo ma costa forse qualcosa come 40.000 dollari. Quindi dovete accedere al barn, al fienile, e vendere questa roba, guadagnerete un po' di soldi e poi potrete comprare anche il bunker, nonché la macchina del compost, che praticamente è, oltre che la macchina del compost, anche un cestino più grande per raccogliere le cose. Il compost serve, ne avete uno piccolo nella casetta piccola che potete comprare nel cottage, ma dal mulino, dal mulino sì, dal fienile, ne potete comprare uno automatico elettrico che vi consentirà di creare compost, appunto rifiuti, fertilizzante. Il fertilizzante aumenta notevolmente la crescita delle piante, nonché delle piante e degli alberi. Quindi vedete che qui adesso io sono pronto, qui è una zona che ho piantato da poco, io prima di, trucchetto che vi consiglio, prima di abbatterlo, magari ne piantate una a fianco, così pian piano ricresce, poi vi concentrate su un'altra zona. Sarebbe bello fare, togliere tutti questi alberi qui e tagliarli tutti, venderli tutti e tutti questi alberi ripiantarli di là. Ma, però, vabbè, al momento, insomma, diamo solo un'occhiata serialistica alla rotazione adesso che abbiamo acceso anche il forno. Sì, guardate quanto gira veloce, i numeri sono finti, questo riprende un po' quanto ho già visto in My Summer Car. Quindi con questo terzo tutorial si conclude la serie italiana di tutorial, ci tenevo a farli, che sono i primi, penso che si trovino in italiano riguardo a questo gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao!